Ragazzi video spesa libera, allora, non so cosa si vede, questo lo si era tutto, carta da cucina, 3 euro con il blog 79, questo qui 1,99€ in offerta c'era anche al limone, sale per una lastroviglie costa poco di valido, ne avevo altri due così come scorta ce l'ho, solo questo pacchetto qui c'era anche la ricerca integrale, ma ho preso solo questo per me le date a segrare in offerta, sconto la tessera, latte questo qui 1,99€ forse anche questo, da un litro che quelli piccoli non vi bastano per fare la ricetta, coconut milk, di orientale ho trovato pochissimo, vi farò poi un altro video, spesa sempre l'idol alimentare da frigo, questo qui mango slice a fette, spero che sia buono, c'erano i noodles ma a me non piacciono, i ceci due confezioni così, due confezioni di polpa di pomodoro che costava 65 centesimi, questo qui ricigel con candeggina, per il bagno va bene, un litro, cannellini, fagioli e anche i ceci ve l'ho fatto vedere, prima campo largo, che li ho visti su youtube e non li avevo mai provati, sale fino, due confezioni così, questo qui orientale, snack di riso, c'era anche con wasabi, voglio vedere com'è, magari li mangiamo insieme in qualche video, questo sapone liquido, no, c'era sapone liquido così, e anche hand cream, quindi crema a mani, l'izea cubeba, c'erano ancora questi tre saponi liquidi natalizi, questo qui caramel, white apple cinnamon silent, questo qui ne volevo prendere due, ce n'era una che costava 78 centesimi, forse questa 68 centesimi e questa, ce n'era uno che costava 85 centesimi, che aveva succo di pomodoro, sale, acido citrico e un sacco di ingredienti, questa invece costava di meno perché ha pochissimi ingredienti, pomodoro e sale, quindi va bene, non l'ho mai provata, speriamo sia buona, questo liquido c'è da due litri e mezzo quasi, sia tappo blu, sia tappo colorato rosa, questo qui, per i colorati l'altro, questo qui classico, detersivo parlavatrice, mai provato, speriamo sia buono, due cavolfioli brutti, erano veramente brutti, alcuni grossi, alcuni piccoli ma brutti, un sacchetto con due cavolfioli, 1,09 euro, ho preso le clementine alla cassetta, che era in offerta da venerdì ma oggi c'erano già, a 2,99 euro 3 chili, o 2 o 3 chili, sto cercando ragazzi, l'unica cosa inutile a parte il cocco, il mango, vabbè, c'era anche l'olio di cocco, a 5 euro, 4,99 euro, ma non mi serve a niente adesso, quindi non l'ho comprato, di solito non lo trovo mai, comunque vabbè, ho preso questo, Mars, perché ho il mio periodo femminile in questi giorni, quindi mi serve, infatti questa tisana qua a 1,99 euro, ventre piatto, le cipolle e le patate anche, a 2,99 euro, cereali e semi c'erano solo questi, ne ho presi altri, altre volte, solo questo, gusto qui, vanno i premezzini per fare una ricetta, a 99 centesimi, questo qua gingerbread, che dovrebbe essere zenzero, natalizio, anche se non è più natale, ci sono un sacco di cose ancora spagnoli nel banco freezer, i pastoggini 4,99 euro o 6,30 euro, ho preso 4-5 yogurt, ma ve lo faccio vedere dopo, qui classico zucchero, niente di che, si posta poco, la farina ce l'ho, per un po' mi basta, mi sembra che ce l'ho una confezione di farina, altrimenti domani le vado a comprare, le patate queste qui che costavano poco, quindi va bene, non ho trovato nello snack, gli snack di camberi, non ho trovato l'isola cantonese, ho preso questi qua, cracker con l'isola soffiato, che erano in offerta anche stranamente, le avevo viste su YouTube, voglio provarli come li ho mai assaggiati, ho preso i miei amici, nel mio periodo femminile a noi donne servono, ve li faccio vedere, sempre questi panno 99 centesimi, sono piccolini, riscono poco, sono vari di per noi donne, va bene, ai maschietti non servono, comunque, noi nasciamo, cresciamo, invecchiamo sempre col pannolone addosso, sia donne che uomini, prima o poi succede anche agli uomini di mettere il pannolone, ragazzi, a dopo, a presto, avevo scritto molte più cose, mi ho trovato veramente pochissimo, spese da frigo ragazzi, ho preso, i lamponi 1,99 euro non sono di stagione, ma vabbè, tanto domani finiscono, faccio colazione domani mattina, o dopo cena stasera già finiscono, volevo, gli snack di gamberi, che sul volantino dovevano costare poco, non li ho trovati, c'erano nutella, caramelle, patatine, cazzate varie, tutte cazzate, cose inutili che fanno solo male, ho preso solo i Mars, come vi dicevo prima, scusate la poca luce, adesso qua in cucina c'è più luce di tutto avremo, ho preso questi, nel banco frigo, due confezioni così, che sono piccolissimi, prima o poi, magari, imparerò a fare anche in casa, non sono capace, con verdure, Asian Style Giozia, Giozza, non so come si dicono, questi con maiale e verza, cercavo la scamorza a fette, ma al Lidl non la vendono, sono al Pendi, la vendono, ho preso questo, il Gouda per una ricetta, col prosciutto cotto, appunto, prosciutto cotto a fette, questo qui è carissimo, c'era anche 2,79 euro, questo qui, due confezioni di 120 grammi, 1,70 euro, quindi, prosciutto cotto e formaggio per una ricetta, i clementini da un chilo sono qua, la cassetta, ha 2,99 euro la cassetta, le più belle, quasi verdi, perché altre, le altre facciamo schifo, erano veramente brutte, ho preso il G Spinaci, 1,29 euro, con la tessera Lidl, plus, un po' vanno per una ricetta, alcune le potete magari anche usare bolliti, o come ripieno di tortellini se fate la pasta in casa, io adesso poi li congelo, perché sto sacchetto è troppo grosso, anche se nel freezer, bisognerebbe prima sbagliare il freezer e poi congelarli, ma comunque, vabbè, avevo già il Würstel, ma solo 3 non li bastano, per la ricetta che dice, cuciniamo con chicca su YouTube, quindi ne ho presi altre 3, pollo e tarchino, questi qua, 65 centesimi del Lidl, poi non li comprerò mai più di Würstel, ma voglio fare questa benedetta ricetta, perché l'altra volta l'avevo fatta con 3 Würstel, la pasta sfoglia rotonda, ma non andava bene, quindi quello, poi non li compro più di Würstel, che fanno più male che bene, la pancetta non l'ho presa, ho preso solo lo spec, perché voglio fare dei sughi, tipo la matriciana, con il sugo di pomodoro che l'ho comprato, ve l'ho fatto vedere prima, questi, i yogurt qua, comprarne 4 erano in offerta, ne ho presi 4 diversi, va a fare con il cioccolato, vaniglia va a fare al cioccolato, vaniglia e palline al cioccolato, questi qua sono due, e poi un terzo, e poi ho preso quelli con gli Smarties, questo qui, Safari, lo che compravo già anni fa, la sfoglia appunto rotonda che mi serve per i Würstel e per altre ricette, con gli Spinaci, se fosse Natale, potete fare anche la ricetta, gli rustici, invece che con i Würstel, con gli Spinaci, la pasta sfoglia appunto, vabbè, non è Natale, comunque gli Spinaci cercherò di farli andare, anche se non sono un amante degli Spinaci bolliti, ma magari come ripieno, anche della pasta sfoglia, facciamo una quiche magari, una volta insieme, con un po' di formaggio grattugiato, ecco, il formaggio spalmabile, mi serviva, non l'ho comprato, porca miseria, vabbè. Salsiccia, questa qua, tre confezioni, 2,39 euro, tacchino, suino e pollo, mix, 400 kg, mi scade il 26 gennaio, quindi la prossima settimana, ma io la congelo, e alcuna, un po' di pezzi, li faccio andare, e farò un sugo di salsiccia, forse ho già fatto il video sugo di salsiccia su questo canale YouTube, non lo so, non mi ricordo, fatemi sapere. Ho preso anche questo che non è in offerta, petto di pollo intero, e così poi lo taglio, lo congelo, che tanto i sacchetti ce ne volevo comprarli, ma li ho già, quindi a posto. Ho preso questi che non sono da prego, ma ve li faccio vedere lo stesso, non è in offerta, bucaneve e ciocco integrale. Questo qui, se avessi il formaggio spalmabile, anche con il prosciutto si possono riempire, tipo la puccia salentina del penne, è buonissima. Questa qui è stata in bocca alla napoletana, pretagliati, ma se potete, potete anche comprarli da tagliare, cotto su pietra, quindi le vito madre, poi li tagliate voi. L'acqua la devo comprare domani che è in offerta al Lidl, la carne macinata domani dovrebbe anche essere in offerta. A presto, pochissima roba da... Bye bye!